Caffè e soie con soie dieci. Perché? Però, Giovanni mi ha votato più friggio, Sì, questo è sin lieci, è non possibile soie lieci. Ich bin ein Berliner. Però il s'agit di Brian Epstein, il è morto ora, ma... Autrefoi, il signor Epstein è vivo. L'on me ha detto, ah, c'è Brian Epstein, il è vivo ancora. E questa chanson, c'è... Oh, il è morto ora... C'è questo? Non si sa dire, non c'è l'inglese? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! un garçon lobster a un club de nuit a New York dans l'âge de fume il s'agit de merchandise il s'agit de il s'agit de fuck yourself out yesterday tomorrow will be fine It's all for the best you say Somewhere down the line Everything is fine Everything is mine Pharaoh's tomb is empty now He can come riding Bandage up your skin Bandage up your Oh, I I'm in a hurry for the sky Yes, I I'm in a hurry for the sky You can easily confuse Money is success Success is always relative Money is absolute Money is cute Money will be my guest Oh, I I'm in a hurry for the sky Yes, I I'm in a hurry for the sky Number two set to number one You fix this up or we finish, son Number three set to number two When am I going to get your trade boots with you? Number four set to number five Has a feeling eaten alive Number five set Number five set to number one I'm in a hurry for the sky 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 Number five final To be continued... That you'll feel To be continued... Grazie.